Il contenuto filmato di questo video è estratto dal mio omaggio alla memoria dell'ingegner Nicola Materazzi, visibile sul canale Giovanni Volpi. La cravata che mi sono messo per l'occasione è in un color rosso scuro, che è uno dei colori storici della Ferrari, uno dei primissimi colori con cui venivano verniciate le vetture, credo che fosse, si è chiamato il rosso barchetta, un rosso molto sanguigno e qui abbiamo appunto dei cavallini dorati. Questa cravata risale all'epoca in cui ero ancora studente ed ebbi l'occasione per poco più di un anno di partecipare, anzi poco meno di un anno, di contribuire alle attività dell'ufficio pubbliche relazioni della casa di Maranello, quindi parlando con semplici turisti, partner industriali, ospiti VIP, quindi lavoravamo all'interno della produzione, del reparto corse, era l'epoca di Michael Schumacher, quindi insomma abbiamo vissuto un'epoca stupenda e devo dire che il mio lavoro, essendo stato molto appassionato nel raccontare tutti i contenuti tecnici, i processi di produzione delle vetture, poi ci mettevo tanti aneddoti che imparavo io così per vie traverse, eccetera, ecco è stato un lavoro che mi è piaciuto molto e soprattutto mi ha dato soddisfazione nel vedere gli ospiti addirittura certe volte applaudirmi quando completavamo il giro dello stabilimento e della squadra corse talvolta, perché veramente li avevo portati alla conoscenza della Ferrari in un modo che per loro era stato molto gratificante, molto appagante e come vedete non mi è proprio passata, ecco non si è proprio esaurita questa vena per la comunicazione e per cui eccomi qua a raccontare a voi in questa compagnia virtuale, come se fossimo a tavola insieme tra tanti amici, di queste mie testimonianze che come vedete cerco di far uscire il più possibile dal mio cuore e che spero di raccontarvi in una maniera non noiosa, cerco di non usare troppe parole cercando di condensare i concetti ma quando le cose sono tante da dire insomma faccio quello che posso. Fra le personalità che apprezzarono il mio lavoro ricordo in particolare Jean Todt, allora direttore sportivo del reparto corse Formula 1 e rappresentanti dell'Automobile Club Francia, varie delegazioni quali Mercedes-Benz Spagna, Shell Austria, Marlboro Italia, clienti dalla Germania, Philip Morris, Ferrari Nord America, prestigiosi clienti dell'area Nord Europa, in particolare Olanda, Henry Morrow, titolare dell'omonima scuola di pilotaggio, Autostrada del Brennero, Infine vari Ferrari Club e la cantante Ivana Spagna. Di quella esperienza in Ferrari conservo omaggi e testimonianze, cari ricordi, autografi, ma pochissime foto purtroppo. Però ho qualcosa da mostrarvi riguardo l'incontro col cantante Per Gessel de Roxette in occasione dei festeggiamenti per i 50 anni dell'azienda, in cui ebbi l'onore di essere assegnato ad accogliere i visitatori alla linea di montaggio della F50, vero punto di attrazione dell'intera fabbrica. Ciao a tutti! Grazie a tutti!